salve e ben trovati all'appuntamento di oggi giovedì 8 settembre ebbene l'attesa decisione da parte della bce è ufficialmente arrivata nello specifico si sceglie di aumentare i tassi di 75 punti base oltre a ciò in futuro sono previsti ulteriori rialzi tutto ciò non ha spaventato gli investitori il fuzzimib per esempio ha avuto una fiammata nelle ultime due ore di contrattazione finendo per avvicinarsi al punto percentuale di guadagno nel caso del dax invece questa fiammata ha riportato l'indice tedesco sulla parità dato che nel primo pomeriggio si trovava in netto territorio negativo wall street ha aperto abbastanza positiva dow jones e nasdaq hanno un progresso compreso in ambo i casi entro il mezzo punto i titoli bancari beneficiano del rialzo dei tassi come vediamo la top 5 milanese interamente occupata da titoli del settore unicredit vola sopra il più 6 per cento superando i 10 punti banco bpm supera il più 5 segue b per a più 3 e 0 9 per cento infine fineco e intesa a ridosso dei due punti e mezzo di guadagno incontro tendenza telecom che scivola su un nuovo record di minimo ma registrato prima continuano le prese di profitto sulle utilities come a2a italgas eterna segno meno anche su iveco poco movimentato il comparto valutario euro dollaro ha avuto qualche oscillazione ma non si è discostato più di tanto dai valori di ieri sera lo stesso discorso vale per il cross euro sterlina ed euro yen anche in questo caso le variazioni sono minime ed ora non mi resta che chiudere con l'analisi a cura di sante pellegrino salve a tutti per le interviste di trader link ospite di oggi sante pellegrino trader indipendente ci darà una mano per capire quello che sta succedendo sul nasdaq e sull'indice italiano in questo momento particolarmente delicato per i mercati a te la parola ciao rossana il piacere di rivederti un saluto a tutti gli amici trader ed effettivamente andiamo ad analizzare il nasdaq che è l'indice più volatile di wall street e il fruzzimib che è l'indice più volatile più volatile della zona europea sono momenti particolari questi perché la volatilità oramai ha praticamente attagliato tutti i mercati e sta continuando ad avvolgerla perché non c'è spazio per eventuali ripresi quindi un abbassamento della volatilità quindi mercati ancora incerti rischio ancora elevato se andiamo ad osservare i grafici possiamo tranquillamente notare che purtroppo siamo ancora sotto resistenza per quanto riguarda il fruzzimib le prime resistenze di area 23.000 e 22.500 si sono fatte già sentire ad agosto adesso c'è la possibilità di andare a superare i 21.700 22.000 punti per appoggiarci attorno ai 22.500 magari tentare nuovamente di superare questa resistenza che veramente è fastidiosa per quanto riguarda il nasdaq nonostante un ottimo rally estivo da giugno all'inizio di agosto metà agosto abbiamo recuperato quasi i 1.500 punti importantissimi per il nasdaq ciò però non è servito perché proprio sotto i 13.750 punti abbiamo ritrovato una resistenza che ci ha riportato sotto i 12.750 punti quindi siamo in area di supporto in questo momento 12.000 punti di nasdaq non deve essere assolutamente abbandonato altrimenti si andrà sempre più in basso perfetto santi io ti ringrazio per tutte le indicazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana buon trading un saluto a tutti grazie rossana e grazie sante era l'ultima nota di quest'oggi da parte mia un ringraziamento un saluto arrivederci a domani